e andiamo a inserire nel browser MatSciNet. Clicchiamo su MatSciNet, poi di nuovo su MatSciNet. La maschera di ricerca è costituita da quattro tab, Publications, Authors, Journals, Citations, nonché da un'help in linea contestuale alla pagina in cui ci troviamo. Nell'archivio Publications è possibile ricercare documenti incrociando più chiavi di ricerca, grazie ai menu a tendina e ai vari filtri disponibili. Per esempio andiamo a inserire il termine primicereo nel campo Author e il termine Models nel campo Title. Clicchiamo su Search. Il primo articolo della lista è disponibile in formato elettronico e cliccando sul bottone Trovo un EFI io posso accedere direttamente al full text. Nell'archivio Authors è possibile accedere alla scheda personale dell'autore di nostro interesse, con il totale delle sue pubblicazioni presenti nella banca dati, l'anno del primo contributo, il numero delle citazioni ottenute dai suoi articoli e i coautori. Per esempio andiamo a inserire il termine Marcellini. Interessante il link Mathematics Genealogy Project, un progetto di genealogia accademica in cui si offrono legami fra matematici, fra formatori e allievi, come se si trattasse di un vero e proprio albero genealogico. Dalla tab Journals si possono effettuare ricerche partendo dal titolo della rivista di nostro interesse, per esempio, Ricerche di matematica. E anche da qui è possibile raggiungere il full text del singolo articolo, qualora presente, tramite il pulsante Trova un EFI. Infine, la tab Citations consente di reperire tutte le citazioni ottenute da uno specifico autore, suddivise per documento, quelle ottenute dall'annata di una specifica rivista, da un numero di classificazione e altre ricerche simili, tutti dati utili a misurare il peso di un lavoro, di una testata o di un autore. Per esempio, andiamo a inserire il termine Magnanini. Pecchiamo su Search e vediamo che l'autore Rolando Magnanini è stato citato 406 volte da 217 autori. Il link Librarians consente di accedere a una serie di risorse utili, tanto per i bibliotecari, quanto per gli utenti, come per esempio Reference List Journals, che contiene un elenco dei periodici e delle collane censite dalla banca dati, con lo scioglimento delle abbreviazioni standard dei titoli. È possibile raggiungere anche alcune guide alla banca dati, come per esempio Matici.net Kickstart Guide e lo schema Mathematics Subject Classification. Il link Free Tools porta al box Search MSC che consente di utilizzare come chiave di ricerca la Mathematics Subject Classification. Nel menu a tendina che compare selezioniamo per esempio la notazione di primo livello 35. Clicchiamo su Search e dalla pagina dei risultati clicchiamo sull'icona di forma rettangolare associata alla sottoclasse di nostro interesse per raggiungere gli articoli relativi all'argomento ed eventualmente il full text quando presente sempre tramite il pulsante Trovo unify.